Musica Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di martedì che vedrà ancora in azione sull'Italia la perturbazione giunta a inizio settimana in particolare nelle regioni meridionali e sul medio adriatico sarà ancora una giornata autunnale controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia e in effetti al sud e sul medio adriatico insisteranno ancora parecchie nuvole mentre già delle belle schiarite si fanno avanti al nord e sul versante tirrenico anche come precipitazioni vi segnalo piogge soprattutto nelle estreme regioni meridionali dove avremo i fenomeni più diffusi e più intensi non escludiamo anche qualche temporale ma pure sul medio adriatico sarà ancora presente qualche piovasco quindi in definitiva ci attendo un martedì che vedrà il ritorno sì di ampie zone di sereno al nord e sul versante tirrenico ma dicevamo ancora autunno pieno sul medio adriatico al sud piogge localmente piuttosto intense temperature in diminuzione nelle regioni meridionali e vi segnalo anche parecchio vento al centro sud ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo